ciao a tutti ragazzi in questo nuovissimo video oggi siamo qui per farvi vedere questo nuovo set l'ego 76.942 Jurassic World Boats Rally Flots e qui lo sto montando ecco che si va avanti ed ecco qua ragazzi quasi finito di montare grazie a tutti ed ecco qua ragazzi che ho finito di montarlo qua c'è il dinosauro qua c'è la mini park ecco ecco qua c'è la mini park 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 ecco qua c'è la mini park